Buonasera a tutti, benvenuti a Sherwood. Questa sera parliamo di razza, genere e sessualità. Questo incontro è organizzato da Asterisco, che è una rubrica di Global Project che è nata a fine novembre ed è anche un gruppo di persone che sta cercando di portare avanti un lavoro di analisi sulle questioni che riguardano il genere e la sessualità e non solo. Infatti stasera parliamo anche di razzismo. E Asterisco nasce da un'esigenza che era appunto quella di provare a ragionare sulle questioni legate alla sessualità e al genere che abbiamo iniziato a sentire questa esigenza soprattutto dopo l'avanzata di questa crociata antigender che l'anno scorso ci ha visti anche impegnati nelle piazze per contrastare questa avanzata di questi movimenti no-gender. L'anno scorso poi abbiamo tenuto un dibattito con Lorenzo Bernini, Sara Garbagnoli e Leonardo Bianchi al culmine appunto di quest'anno di ragionamenti su questa teoria del gender e da lì abbiamo appunto sentito questa esigenza di trovare uno spazio all'interno di Global Project e all'interno anche di Sherwood in cui affrontare queste tematiche. Io e Valentina facciamo parte di Asterisco e ora passo la parola a Valentina che ci intervierà al dibattito. Buonasera a tutti, io stasera voglio introdurre i nostri ospiti ma prima di tutto vorrei parlare un attimo di perché abbiamo deciso di trattare di razza, genere e sessualità assieme. Abbiamo deciso di trattare di queste tre assi molto importanti, anche molto complesse, complicate e molto vaste assieme perché pensiamo sia necessario produrre un'analisi intersezionale. Con l'analisi intersezionale intendiamo appunto il fatto che bisogna, secondo noi, per avere la possibilità appunto di essere efficaci e di essere critici oggi c'è bisogno di considerare la questione della razza, la questione della sessualità e la questione del genere assieme perché ogni posizione subordinata, sottoposta a subordinazione, esclusione, ha delle caratteristiche specifiche che appunto sono dovute alle strutture del razzismo, del sessismo e dell'omofobia e appunto ogni posizione ha la sua specificità e ha anche dei punti in comune con le altre e appunto per comprenderle veramente bisogna considerare questi tre assi assieme. Stasera ne parliamo con degli esperti, vi presento da destra a sinistra, innanzitutto Giuseppe Burgio è pedagogista, si occupa di interculturalità, è autore e curatore di Oltre la Nazione, si è occupato di Tamille in questo libro e autore di Adolescenza e violenza che presentiamo domani sera proprio qui a Sherwood e di Mezzi Maschi, un altro libro appunto dedicato alla tematica dell'omosessualità e è ricercatore all'università code di Enna e vice direttore del CIRC, centro interuniversitario di ricerca queer poi abbiamo Vincenza Perilli, ricercatrice indipendente, esperta di femminismo ha quadrato un sacco di cose, stasera abbiamo deciso di dire che ha quadrato Femminista Parole assieme a Gemila Mascat e a Sabrina Marchetti Non si nasce donna assieme a Sara Garbagnoli che abbiamo avuto appunto ospite l'anno scorso e poi Trasformazione Senza Rivoluzione come i movimenti femministi LGBTQ hanno cambiato il mondo numero speciale di Zapruder World liberamente scaricabile dalla rete poi abbiamo, questo numero l'ha quadrato assieme a Sabrina Marchetti e a Elena Petricola e poi abbiamo con noi Tatiana Petrovic-Niegosch, esperta di appunto razzismo e razza e curatrice di parlare di razza assieme ad Anna Scacchi e del numero speciale di Iperstoria, razza e prospettive transnazionali anche questi sono testi liberamente scaricabili da internet sia Tatiana che Vincenza sono anche cofondatrici del gruppo Intergrace un gruppo interuniversitario che si occupa di razza e razzismo con questo passo la parola direttamente a Tatiana che comincerà a parlarci di quello che è forse il concetto un po' più problematico nel senso che è un concetto quasi paradossale perché ci parlerà di razza che da un certo punto di vista esiste ma da altri punti di vista non esiste grazie